Ritorniamo insieme, cari amici di Padre Pio TV, in diretta dal Sagrato della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, con Natale con i tuoi. In questa domenica vogliamo accogliere una famiglia che ci racconterà del dono della vita, accolto sempre con grande gioia. Diamo il benvenuto a Roberto e Vincenzo Tavaglione. Benvenuti. Grazie. Vincenzo, ci presenti la tua famiglia e ci racconti dei tuoi figli? Certo. Allora, la mia famiglia è composta da otto persone. Siamo sei bambini e io e mia moglie. Mia moglie, fortunatamente, è bravissima mamma e donna e moglie. I miei figli, Gaia, ha 14 anni, è la maggiore. Poi c'è Carola, di otto anni, Antonio, di cinque, Lucia, di tre, Maria Pia, di due e Grazia, la più piccolina, di un anno. Gaia, la maggiore, ha un carattere dolcissimo. Carola è più riservata, invece. Antonio è molto timido, ma anche lui è veramente molto bravo. Lucia è un amore. Lucia è molto amorevole. Maria Pia, piccolina, ancora piccina, ancora non sappiamo che caratterino possa avere e grazie all'ultima stellina della famiglia. Papa Francesco, molte volte ci dice che dobbiamo imparare a vivere nell'attesa come una donna incinta. Quali sono le sensazioni e le emozioni che prova una donna che aspetta un bambino? Beh, sicuramente ci sono tantissime emozioni e a volte anche contrastanti tra di loro. Si passa dalla paura di non farcela oppure che qualcosa non può andare per il verso giusto e invece in opposizione ci sta invece un amore smisurato che si genera, gioia e niente. Poi la consapevolezza anche di avere nuove responsabilità sulle spalle. Sono tantissime emozioni. Vincenzo, quando entra un bambino in una casa, entra la luce per eccellenza. Quanto e come cambia la vita di una famiglia dinanzi a questa luce? Sì, entra una luce in casa e porta gioia e amore sicuramente. La vita di famiglia viene leggermente stravolta anche perché ci sono più responsabilità, più impegni. Le giornate anche al quotidiano vanno cambiate completamente perché ci sono altre cose essenziali da fare verso di loro. Roberta, un bambino porta luce anche nei momenti bui, porta gioia dove c'è tristezza. Aspettiamo la nascita di Gesù con gioia e speranza per tutti noi. Cosa ti senti di augurare da mamma a tutti coloro che ci seguono? Voglio augurare a tutti e soprattutto ai giovani che ci seguono, dalle nuove famiglie, di aprirsi al dono della nuova vita, di portare un po' di nuova luce in questo mondo, nuova speranza. Lo dico da mamma di quattro bambini, non è affatto semplice, è difficile, a volte è veramente difficile, però alla fine non ci dobbiamo sopraffare dalla paura di non programmare anche la famiglia, i figli. Sapete una cosa, quando giravo col pangione, vi racconto alcuni aneddoti, chi mi guardava soprattutto verso la terza e la quarta gravidanza, stupito, chissà come avessi fatto chissà cosa, come un'aliena, a volte ci rimanevamo male di questa cosa, come per dire scusate ma cosa abbiamo fatto? Niente di male. Questo per dire che forse nel mondo questa luce che generano i figli è venuta un po' messa da parte, non so come dire, quindi l'augurio che voglio fare a tutti è proprio questo, apritevi alla vita nuova, facciamoci travolgere da questo amore che generano i figli. Questo è l'augurio che faccio, che facciamo. Grazie a tutti che siete esempio di apertura alla vita e alla luce. Grazie a voi.